Con l'inizio dei saldi in Sicilia speriamo di dare un'ulteriore scossa ai consumi nell'isola che per fortuna nei giorni precedenti il Natale hanno fatto registrare un incremento più deciso rispetto a quello degli altri anni, un 5,6% in più che lascia preludere al meglio soprattutto nelle grandi città siciliane. E' quanto afferma il presidente regionale di Concommercio Sicilia Gianluca Manenti che saluta così l'avvio degli scondi invernali nell'isola fino al 15 marzo 2023. La regione ha anticipato di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi rispetto al resto d'Italia dove scatteranno invece dal 5 gennaio. L'avvio dei prezzi ribassati del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori ha invece affermato l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. La misura che abbiamo condiviso ha aggiunto in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti ha proprio lo scopo di dare l'infa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti. Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa con una spesa media per famiglia di 178,60 euro in calo del 3% rispetto ai saldi dell'anno scorso. In Sicilia probabilmente queste cifre saranno ancora inferiori visto il potere d'acquisto dei siciliani notevolmente sotto la media nazionale italiana. I saldi invernali sono iniziati ufficialmente, è un inizio però solo formale dal momento che di fatto sono già partiti da giorni in tutta l'isola, sostiene il Kodakons.